Ma qua non ti vogliamo proprio, allora per questo ci stiamo facendo sentire e ci stiamo facendo vedere e forse adesso lo capisci meglio che non ti vogliamo qua, te ne devi andare Salvini, sparisci, vai via, vattene, non ti vogliamo te ne arrivano di questa città, non lo sai quanta roba abbiamo, tu non lo sai, non ci devi stare in questa città allora, allora che cosa succede Salvini che tu ti fai costruire confini attorno, chiuso dentro un cerchio chiuso e devi farti difendere dalla polizia come al solito, come al solito, finisce come al solito che la polizia ci vuole cacciare via perché tu devi dire le tue cazzate, questa cosa come al solito è inaccettabile questa cosa come al solito far parlare i razzisti, far parlare i fascisti, far parlare chi se la fa con l'Alefè, con i peggio fascisti di tutta l'Europa, questo è quello che sta facendo la questura di parte